Martedì ha avuto un pochino di raffreddore, ma poca roba però, siamo agli inizi per scrupolo, per non mettere in difficoltà le maestre, ho detto vabbè mercoledì stiamo a casa, facciamo la richiesta alla pediatra per capire come dovevamo muoverci. Tampone direttamente, giustamente, e stiamo ancora aspettando. Tiziana è la mamma di un bambino che frequenta la seconda elementare nel comune di Arezzo. Nel piano rispetto delle regole, quando il bambino ha avuto il raffreddore, lo ha tenuto a casa, ma i tempi per il tampone richiesto dal medico pediatra si sono dilatati troppo. Da mercoledì, oggi e lunedì, ancora non siamo stati chiamati. Io ho chiamato l'ospedale, ho chiamato il servizio di igiene pubblica, ho tentato di chiamare la USL perché il medico del servizio di igiene pubblica, molto gentile, educato e mortificato dalla situazione, si è scusato perché hanno avuto dei problemi sul... si è rotto qualche macchinario che rileva i tamponi e quindi hanno avuto un po' d'affanno. Però il sistema piano piano sta ripartendo. Soltanto che mi sta bene aspettare, chiaramente non si può pretendere di essere tutti in prima fila. Però successivamente a me sono capitate anche dei casi in classe nostra di raffreddore, venerdì richiesta, sabato telefonata, lunedì appuntamento. Noi siamo ancora in attesa. Per questo Tiziana sceglie di metterci la faccia, di raccontare senza filtri quello che le è capitato e di rappresentare magari la condizione di altre persone che hanno vissuto la sua stessa vicenda. La soluzione più disperata che ho trovato, stamattina sono andata alla stazione, ho comprato un biglietto del treno per il posto più vicino ed economico, anzi due biglietti per il treno. Ho registrato nella pagina, nel sito Viaggiare Sicuri, il sito predisposto per registrare il biglietto e prendere poi l'appuntamento per il tampone facoltativo. Ho preso l'appuntamento per domattina. Io domattina vado a fare il tampone a mia figliola alla stazione, se no non riesco ad avere il certificato per farlo tornare a scuola dopo una settimana, che sta bene da mercoledì. Il tampone è una soluzione che deve essere un bene collettivo, non solo individuale, è per tutti, per cui mi starebbe anche bene tenere i figli a casa per un banale sintomo, visto che rientrano i sintomi del covid. Sarebbe anche giusto, però consentite una certa velocità, perché se mi stanno le cose bene va bene a tutti, ma anche al personale, mettiamocelo. Non so risolvere questo problema, però è un appunto che probabilmente qualcuno deve fare e una soluzione va trovata.